Anche nelle Marche, l'espansione del piano vaccinale anti-Covid passa per le somministrazioni in azienda. A fare da prepista a livello provinciale e regionale è stata Marche Multiservizi, che dopo l'organizzazione e l'allestimento del Lab nell'auditorium di Via Toscana, questo pomeriggio ha avviato le vaccinazioni per i circa 70 dipendenti che ne hanno fatto richiesta. Con soddisfazione posso dire che ci siamo attivati subito sul tema Covid, sia sulla prevenzione iniziale, quindi dal 2020, grazie anche al fatto che facendo parte di un grosso gruppo come quello di ieri siamo attivati subito sulla prevenzione dei nostri dipendenti. Abbiamo continuato in tutto il nostro percorso e abbiamo veramente limitato i contagi, che sono poi stati contagi non sul posto di lavoro ma ovviamente estra. Ovviamente nel momento in cui si è aperta la possibilità di vaccinare, tutto il gruppo era e quindi anche noi ci siamo attivati nei confronti delle diverse regioni per attivare il nostro hub e procedere alla vaccinazione dei dipendenti del gruppo e in questo caso di Marche Multiservizi. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare sia il Presidente, l'Assessore Saltamartini, tutto lo staff della regione, perché nel momento in cui abbiamo attivato questo percorso abbiamo fatto la richiesta, sono stati molto collaborativi e ci hanno consentito oggi di partire con la vaccinazione dei nostri dipendenti. Tutto questo in tempi anche veramente molto rapidi, come vedete il lab predisposto è stato assicurato e certificato anche dalla competente Azure. Le vaccinazioni cominceranno oggi, dicevo l'adesione dei nostri dipendenti sono circa una settantina, ovviamente il numero è un po' più ristretto rispetto alle potenzialità perché nel frattempo comunque le vaccinazioni di carattere generale sono andate avanti anche nei diversi territori e quindi molti sono stati vaccinati. Ovviamente lo staff medico è quello del medico aziendale, ovviamente condivato da personale e anche dell'Azur. L'organizzazione ovviamente prevede tutto quello che il protocollo per le vaccinazioni indica e quindi tutto il processo, il percorso dall'entrata fino all'uscita, quindi con tutti i vari passaggi e direi che conto che la settantina di persone che hanno aderito su base volontaria ovviamente perché poi noi abbiamo attivato le adesioni, ovviamente sono state fatte nella direzione nei confronti del medico aziendale, quindi non nei confronti della struttura aziendale perché comunque va ottemperato anche rispetto della privacy. Conto che la settantina di persone che mi risulta siano state prenotate e oggi possono fare la prima dose. Il vaccino che è stato indicato è il Pfizer e quindi nell'arco di qualche settimana ovviamente ci sarà anche il secondo passaggio.